Alla CGL l'azione del governo in tema di riforma del lavoro proprio non piace. Da Cremona sono partite 500 persone con i pullman organizzati per dire no alla precarizzazione e alla perdita dei diritti dei lavoratori. Una trasformazione ancora ribadita dal Premier Renzi nella giornata di domenica, dando l'addio al posto fisso. Molti lavoratori, lavoratrici, pensionati ma anche molti giovani hanno partecipato alla nostra manifestazione. Da Cremona siamo stati molto contenti perché siamo riusciti a fare 10 pullman, 10 pullman pieni, pertanto 500 persone che hanno partecipato alla manifestazione di Roma. A Roma non si è urlato come dice qualcuno, a Roma c'è stata una manifestazione che forse sarebbe stato meglio ascoltare nei contenuti visto che hanno parlato lavoratori, lavoratrici e giovani precari che hanno difficoltà sia sul posto di lavoro, disoccupati, gente che è in cassa integrazione, in deroga e non sta percependo neanche un euro dal primo di gennaio. Le dichiarazioni che sono succedute il giorno dopo da parte di Renzi mi trovano, non sbalordito però non riesco a capirle, cioè quando si afferma che non c'è più il posto di lavoro fisso che cosa c'è? Cioè dovrebbe dire qual è l'alternativa al lavoro fisso perché la precarietà l'abbiamo già, i disoccupati ci sono già e che cosa c'è, che cosa resta in questo paese? Si passa anche il discorso che con l'articolo 18 si può licenziare. L'attenzione della Camera del Lavoro è alta attorno a un altro pericoloso capitolo di tagli, quello ai patronati, previsto dalla legge di stabilità. L'utile azione svolta gratuitamente a favore di pensionati, lavoratori, per orientare e fornire documentazione, accompagnare gli utenti, rischia di saltare. È grave anche che tali servizi sono finanziati dai contributi dei lavoratori. Solamente per quanto riguarda la disoccupazione, noi abbiamo avuto quasi 2.800 persone che sono venute nei nostri uffici solo nella nostra provincia di Cremona e se fossero andati all'Inps e se fossero andati in qualche altra struttura pubblica sarebbero stati in grado di intervenire. No, allora bisogna essere sinceri, cioè nel senso che se si tagliano le risorse a questi uffici che sono essenziali per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, di tutti i cittadini, si rischia veramente di mandare il caos. Questi soldi vengono presi dai contributi che i lavoratori versano all'Inps ogni anno, pertanto non sono soldi né del governo né dello Stato, sono soldi che i cittadini pagano all'Inps e l'Inps poi paga per quanto riguarda le prestazioni che vengono fatte ai patronati.